Vi devo ringraziare innanzitutto perché senza il vostro apporto non avremmo avuto tantissime immagini dai campi dilettantistici, quindi innanzitutto ringrazio voi. E poi con questo premio questa sera cerchiamo di buttare un po' il sassolino nello stagno, cercare di allargare anche la nostra rete di collaboratori e coprire eventualmente il prossimo anno il campionato di promozione ma anche quello di eccellenza più puntualmente rispetto a quanto fatto quest'anno. Perché diciamocelo, la promozione del prossimo anno, non so se avete visto i possibili gironi, sarà la nostra Serie A e noi dovremmo essere secondo me Sky dell'Irpinia, quindi cercheremo in tutti i modi di essere puntuali e di seguire per i nostri utenti il calcio dilettantistico per tutti voi. Senti, chiudiamo con una domanda sul premio. Nel frattempo è arrivato anche Sabino Gianattasio che è l'altro collaboratore di Sport Channel, quindi i due conduttori delle trasmissioni dilettantistiche. Siete rimasti soddisfatti del vostro lavoro e soprattutto del premio che avete istituito insieme a tante altre emittenti? Io devo fare i complimenti a Salvatore per questa scelta del premio perché io l'avevo definito pazzo quando ha iniziato con questa cosa, l'avevo definito pazzo e invece con il suo impegno, con la sua capacità è riuscito a mettere insieme tutte queste teste questa sera e a premiare i migliori di queste categorie. Devo essere sincero, ho perso parecchie ore di sonno quest'ultima settimana in particolare perché ovviamente snocciolare le varie preferenze, chiamare gli allenatori capitani ad uno ad uno non è stato semplice, però alla fine credo che il risultato e le persone presenti questa sera qui ci soddisfa del lavoro e delle ore di sonno che abbiamo perso in questi giorni. Grazie a voi e un grosso in bocca al lupo per il futuro. In bocca al lupo anche a voi perché sicuramente sarete... Grande sinergia anche il prossimo anno. Grazie.